Ben trovati per questa edizione del Tg Blue del 31 maggio, giovedì 31 maggio. Un patto tra la provincia di Foggia e l'ARPA Puglia per il monitoraggio del territorio e per scongiurare i possibili pericoli ambientali. E' questo l'impegno su cui si sta lavorando a Palazzo Dogana in queste ore. Vediamo il servizio di Michele Cirulli. Salvaguardia dell'ambiente e monitoraggio dei fenomeni più critici della Capitanata. E' questo l'intento col quale la provincia di Foggia e ARPA Puglia stanno lavorando ad un protocollo che miri a focalizzare l'attenzione sulle tematiche ambientali. Saranno dunque attenzionate le discariche, le emissioni in atmosfera, le emissioni od origine e saranno effettuate analisi dei terreni soggetti a ricadute degli inquinanti, oltre al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di telecomunicazione telefonici e radiotelevisivi e degli elettrodotti. Il protocollo in via di perfezionamento partirà con un impegno di spesa di 300.000 euro che la provincia di Foggia destinerà ad ARPA per un'azione biennale di supporto tecnico. Obiettivo dell'ente sarà il potenziamento del monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Capitanata, come i corsi d'acqua principali, le lagune e i recettori degli affluenti dei depuratori della provincia di Foggia. La convenzione in stesura fonda la sua ragione d'essere sul potenziamento delle dotazioni impiantistiche, strumentali e di laboratorio e dell'organico del Dipartimento ARPA di Foggia, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, con istituti universitari e con enti di ricerca. E c'è stata una nuova giornata di controlli da parte della Questura nel quartiere Ferrovia. I controlli rientrano in un piano della Questura che è tesa e finalizzata a dare ai residenti una sempre maggiore percezione di sicurezza. Vediamo il servizio Luca Pernice. Ancora controlli della polizia nel quartiere Ferrovia di Foggia, in quella zona, che una volta era considerato il salotto buono della città e oggi è invece diventata un'area frequentata soprattutto da commercianti abusivi e ambulanti. Nel corso dei controlli la polizia è intervenuta in via Podogora controllando i locali della zona, identificando diverse persone. Controllate, anche insieme ai colleghi della polizia locale, numerose altre attività commerciali in via Podogora, via Monfalcone, via Trieste e in altre vie del quartiere. I controlli disposti dalla Questura, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, fanno parte di un progetto finalizzato ad assicurare una sempre maggiore percezione di sicurezza da parte della cittadinanza. Ed è questa una delle maggiori criticità di quel quartiere centrale della città capoluogo. Da tempi i residenti del quartiere Ferrovia non si sentono sicuri, nonostante il gabbiotto della polizia locale. E non è, come sottolineano i cittadini, una questione di razzismo. La zona, denunciano i residenti, è insicura, anche per l'eccessiva presenza di cittadini stranieri che bivaccano proprio tra via Podogora, via Monfalcone e via Trieste. Eccessiva presenza che è spesso una delle cause delle risse dei litigi che avvengono nel quartiere e che mettono in stato di allarmi i residenti, che anche oggi hanno visto con favore questi controlli delle forze dell'ordine. In programma oggi a Bari una nuova seduta di Consiglio regionale, ma lo stallo che si è registrato nella conferenza dei capigruppo, che si tiene per indirizzare poi i lavori, rischia di condizionarne e comprometterne l'esito. La seduta precedente, interamente dedicata all'emergenza Xillella, si era conclusa con l'impegno di arrivare a un documento condiviso. Erano infatti quattro gli ordini del giorno presentati rispettivamente dal consigliere Cosimo Borracino, dai gruppi di Forza Italia e Direzione Italia, del Movimento 5 Stelle e di alcuni esponenti della maggioranza di centrosinistra, tra i primi firmatari Paolo Campo e Napoleone Scera, ognuno dal tenore diverso. Il presidente del Consiglio, Mario Loizzo, aveva cercato e sperato in una soluzione condivisa che evidentemente non si riesce a trovare e il permanente clima elettorale si fa sentire anche nell'assemblea di Via Capruzzi. La conferenza dei capigruppo iniziata alle 10.30 e terminata infatti alle 13.30, gli aggiornamenti nella prossima edizione del nostro telegiornale. Due giorni fa l'inaugurazione del Core Facilities di Agraria, la nuova cittadella della ricerca, ma come verranno articolate le risorse condivise del Dipartimento? Ce lo spiega la responsabile professoressa Antonella Baiano. Un ulteriore salto di qualità per la Facoltà di Agraria, per l'Università di Foggia oggi. Sì, mi fa piacere che le dica questo. Per noi è sicuramente motivo di estrema soddisfazione inaugurare questa struttura, perché si tratta di Core Facilities, appunto, cioè un insieme di ben nove laboratori, ciascuno dei quali è accumunato da un filone di ricerca, una filiera ed altro. Si tratta di tre Core Facilities dedicati ad impianti pilota e sei Core Facilities dedicati all'analisi, alla caratterizzazione degli alimenti e dei materiali di confezionamento. Questa struttura sarà utilizzata dai nostri studenti per le attività didattiche, quindi per le esercitazioni pratiche, ma sarà anche una struttura dedicata alla ricerca, ricerca di base, ma anche ricerca industriale, per cui siamo aperti ad ogni richiesta da parte delle aziende della nostra provincia, non solo per collaborare. Come si è arrivati a questo stadio, dottoressa? Beh, è stato un lavoro non indifferente, sia dal punto di vista del tempo che vi abbiamo dedicato, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie dedicate a questa realtà. Si è trattato appunto di mettere insieme delle attrezzature, che erano comunque attrezzature preesistenti, ma che abbiamo deciso di dedicare a questo particolare obiettivo. E quindi il lavoro è stato tanto, è stato anche un lavoro di KIP, accanto a me ci sono state delle altre persone che hanno collaborato strettamente e mi sento davvero di ringraziare l'Ateneo per lo sforzo che ha fatto per garantire tutto questo. E si può tornare a sperare per la riapertura del tunnel Monte Saraceno, per la viabilità sul Gargano migliorata. Il summit tra provincia di Foggia e ANAS ha portato infatti un piccolo passo avanti per scongiurare l'apertura a singhiozzo della galleria nei mesi estivi. Vediamo il servizio di Michele Cirulli. Dopo i sit-in, le proteste e l'elenco dei disguidi per la chiusura della galleria Monte Saraceno, la provincia di Foggia incontra i vertici di ANAS per scongiurare un sostanziale blocco della viabilità garganica, soprattutto nei mesi del boom di visitatori e turisti. Il vicepresidente della provincia Rosario Cusmai ed il consigliere forzista Pasquale Cataneo hanno chiesto la risoluzione della controversia che nei fatti ha determinato un possibile utilizzo al singhiozzo del tunnel che in piena estate potrà essere battuto fino alle 19.30, togliendo ogni limitazione però nel weekend. La speranza invece è che si possa estendere la fruibilità della galleria a tutto il periodo estivo, evitando ogni disguido per il gargano e per il turismo che inevitabilmente fiorisce a luglio ed agosto. Per noi, insomma, molto restringenti gli lassi di tempo che sono stati individuati come apertura della galleria. Noi abbiamo illustrato quali sono le nostre motivazioni che ci hanno spinto a chiedere appunto una disponibilità per un ulteriore, a brevissimo tempo, incontro in prefettura per poter allargare il periodo che fino adesso è stato poi pronunciato. Noi riteniamo che la galleria debba essere aperta per un periodo più ampio, pur tenendo conto delle esigenze che sono previste contrattualmente, ma ancora di più segnalando che quel tipo di infrastruttura è essenziale per la stagione turistica e quindi abbiamo già delineato che il periodo di riferimento per noi essenziale va dal 15 di giugno al 15 di settembre. E la speranza è ben riposta perché è appena arrivata in redazione la notizia che è stata approvata all'unanimità in apertura della seduta del Consiglio regionale. è una mozione firmata dai consiglieri della provincia di Foggia, Gian Nicola De Leonardis, Gian Diego Gatta, Rosa Barone, Paolo Campo e Napoleone Cera sui lavori di manutenzione straordinaria della galleria Monte Saraceno a mattinata con la richiesta dell'assessore regionale ai trasporti e all'esecutivo di intervenire e interloquire con i vertici dell'ANAS per cambiare il programma annunciato che rischia di compromettere la stagione estiva. E da mattinata passiamo a Manfredonia, navi da crociera a Manfredonia tornano, tra luglio e agosto saranno infatti 10 gli approdi di piccole navi da crociera di lusso previste nel porto di Sipontino. Vediamo in servizio Luca Pernice. Saranno 10 gli approdi di navi di lusso che quest'estate faranno scala al porto di Manfredonia, un vero e proprio record che porta la costa e il porto Sipontino ad essere una delle mete più ambite delle crociere dell'Adriatico. La prima nave da crociera che farà scala a Manfredonia sarà la Passenger Cruise Ship che ospita circa 50 passeggeri e che sarà nel Golfo Sipontino quattro volte. Ad agosto un'altra imbarcazione farà scala a Manfredonia sei volte. Secondo quanto comunicato dalle società armatrici, le navi attraccheranno la banchina di ponente del porto commerciale in prima mattinata per salpare in tarda serata dello stesso giorno, in modo così da permettere ai croceristi di godere delle bellezze storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche della città. Per la stagione 2019 gli approdi saranno invece 24. Già nei giorni scorsi nella sede dell'autorità portuale di Manfredonia si sono svolti incontri alla presenza anche del comune, dell'agente raccomandatario e della Capitaneria di Porto per definire nei dettagli il programma per garantire così alti standard qualitativi per i servizi di accoglienza. La provincia di Foggia e il Gargano, con due santuari conosciuti e venerati in tutto il mondo, possono essere davvero un'attrazione anche per chi decide di trascorrere le vacanze in crociera. Una possibilità da sfruttare e su cui puntare per attrarre sempre più le piccole navi da crociera di lusso. È ancora un'automobile caduta sulla scogliera dell'Acqua di Cristo a Manfredonia e è accaduto questa mattina dove una utilitaria è precipitata in mare tra lo stupore generale dei bagnanti che stavano prendendo il sole a pochi metri di distanza da dove l'auto è caduta. Il 31 agosto del 2017 si verificò un analogo episodio, l'auto scivolò giù dalla scogliera dopo che il proprietario l'aveva parcheggiata dimenticandosi di azionare il freno a mano. Fortunatamente anche questa volta l'incidente non ha causato alcun ferito. Un evento unico nel suo genere, quello a cui hanno assistito i pescatori a Rodi Garganico. A poche miglia dalla costa nuotava infatti un banco di balene. Vediamo il servizio di L'Area di Lascia. Uno spettacolo unico nel suo genere è quello a cui hanno assistito i pescatori del motopeschereccio Santissima Maria della Libera di Michele Montecalvo. Di fronte al porto turistico di Rodi Garganico, a poche miglia dalla costa, un banco di balene, forse sei, di circa 20 metri ciascuna, nuotava pacificamente nelle acque blu dell'Adriatico. Un evento eccezionale, fanno sapere gli esperti. Gli avvistamenti di cetacei in Adriatico sono infatti rarissimi. L'evento ribadisce la necessità, mai sopita in realtà, di non abbassare la guardia sulla importanza di tutelare il mare e preservare il suo ecosistema dalle trivellazioni e dalla tecnica altamente invasiva dell'Airgun. Le onde sismiche per la ricerca di giacimenti petroliferi disorientano i cetacei provocandone lo spiaggiamento. Dal porto di Rodi l'appello, a cui ci uniamo anche noi, rivolto ai comandanti che transitano nell'area a prestare la massima attenzione e a non disturbare i grandi mammiferi per permettere loro di riprendere il largo. Il Foggia con i propri talenti non è solo calcio. Le giovani atlete dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Capitanata si preparano infatti ad affrontare i campionati nazionali di ginnastica artistica a Rimini. Vediamo il servizio. Hanno superato la fase regionale e sono pronte ad affrontare i campionati nazionali di ginnastica artistica che si terranno a Rimini il prossimo giugno. Roberta Aprile, Jasmine Valente, Maria Cardinale, Martina Albanese, Nicol Bianchi. Le piccole atlete in erba della scuderia ASD Ginnastica Capitanata fondata a Foggia nel 1983. Dedizione, sacrificio ma anche tante soddisfazioni per uno sport come la ginnastica artistica che richiede notevole elasticità, forza muscolare e coordinazione. Come sono arrivate a queste gare e a questa preparazione? Sicuramente con tanto sacrificio si allenano tutti i giorni, tre ore al giorno. Ci sono sia momenti belli che momenti brutti, però alla fine le soddisfazioni arrivano. Le gare si disputeranno a giugno a Rimini? Sì, a giugno ci sarà la fase nazionale. Loro a marzo hanno tenuto le gare regionali e si sono qualificate prime come squadra. La squadra è formata da cinque bambine, una oggi purtroppo è assente. Ora speriamo anche nella gare nazionale di ottenere gli stessi risultati, di confermarli. È uno sport molto duro ma anche molto completo. Sì, esatto. Questo è uno sport che sviluppa la mente e il fisico a 360 gradi. La mente in primo luogo perché comunque comporta tanta fatica e tanti sacrifici. A livello fisico loro comunque prima ancora di salire sull'attrezzo fanno tanta preparazione fisica sia per la loro sicurezza che proprio per riuscire ad eseguire esercizi di determinate difficoltà. Foggia non è solo calcio e le soddisfazioni che gli altri sport potrebbero dare alla provincia sarebbero maggiori se solo ci fossero strutture adeguate per far crescere gli atleti. La crescita di un atleta ovviamente comporta dei rischi e quando si parla di rischi bisogna lavorare in tutta sicurezza. Quindi serve uno spazio molto più grande. Noi arriviamo fino a un certo punto, poi dopodiché ci dobbiamo soprattutto fermare perché non possiamo dare altra crescita a loro perché la struttura non permette. Quindi su questo ci dispiace tantissimo. È vero però che comunque la soddisfazione ce l'abbiamo lo stesso, anche questo è vero. In bocca al lupo alle nostre giovanissime atlete. Siamo in chiusura ma prima di chiudere Antonella Caruso ci annuncerà l'ospite dell'altra campana di oggi. Antonella. Ciao Alessandra, un saluto ai telespettatori del Tg Blu. Oggi ci occupiamo della galleria di Monte Saraceno, quella che bypassa la montagna, anzi ce la fa attraversare e rapidamente ci fa arrivare da Manfredonia a mattinata e quindi alla porta del Gargano. Come sapete ci sono dei lavori che impediscono una fruizione piena della galleria con orari di chiusura. Questo avrà delle ripercussioni pesanti. Noi ne discuteremo oggi con il consigliere provinciale di Forza Italia Pasquale Catanio perché c'è stata una delegazione che ieri è andata a Bari e quindi proprio a confrontarsi con Anas per cercare di avere una finestra maggiore di apertura di questa importante infrastruttura. Quindi noi ci vediamo subito dopo il telegiornale con l'altra campana con il nostro ospite. Grazie Antonella e speriamo che l'annuncio della mozione firmata ai consigliere della provincia di Foggia abbia un buon esito anche rispetto alla richiesta dell'assessore regionale dei trasporti per intervenire e interlucuire con i vertici dell'Anas. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento e ci rivediamo domani. Grazie a tutti.